L'Aquila cattura lo squalo e sorvola la spiaggia. Quello che è accaduto sulla spiaggia di Myrtle Beach, nota località vacanziera della Carolina del Sud, negli USA, ha dell'incredibile. Sì, perché uno squalo che vola ancora non si era mai visto. Eppure è proprio quello che è accaduto, anche se di quel drammatico volo lo squalo avrebbe fatto volentieri a meno. Ma cominciamo dall'inizio. Ashley White di Erwin, Tennessee, è sul balcone che affaccia sulla spiaggia e si sta godendo la vacanza e la vista dell'oceano, quando all'improvviso si accorge di un grosso uccello che si avvicina sempre di più. È grande, molto grande. Probabilmente si tratta di un'aquila di mare o di un condor, che però sembra trasportare qualcosa. Così, incuriosita, afferra il telefonino e inizia a filmare. Quello che riprende ha dell'incredibile. Il rapace, infatti, stringe tra gli artigli uno squalo o più probabilmente un maccarello, un grosso pesce predatore di quasi due metri che, catturato chissà come e chissà dove, stringe tra gli artigli in una mossa mortale, mentre sicura, quasi baldanzosa, inizia a sorvolare la spiaggia. Sotto di lei, chi sulla spiaggia, chi in acqua, i bagnanti intimoriti si godono quell'incredibile spettacolo, mentre Ashley continua in perterrita a riprendere la scena. Il filmato, davvero eccezionale, è un'assoluta rarità, che mette a confronto due super predatori, che, seppure il primo appartenga alla Terra e la preda al pianeta blu, la natura ha messo l'uno contro l'altro, nell'eterna lotta per la sopravvivenza. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere in un commento. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!